buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv iniziamo le trasmissioni della nostra emittente dando un'occhiata ai giornali sono molte notizie interessanti nella giornata di oggi alcune sono non sono belle diciamo subito altre sono più edificanti comunque la lettura dei giornali ci dà un'informazione veramente di quello che sta accadendo nella nostra realtà nel nostro territorio e vediamo subito con il santo del giorno perché anche il santo del giorno oggi fa notizia ebbene il calendario ecclesiastico vediamo qui la grafica ci mostra che oggi è la festa di santa rufina e seconda sono due martiri due sorelle che sono morte sotto la persecuzione degli imperatori valeriano e gallieno ma a fano dobbiamo dire oggi si festeggia san paterniano è il patrono della città fu il primo vescovo si dice anche se forse non è vero però insomma fu il il punto di riferimento più importante all'epoca della dell'inizio delle cristianesimo fece una grande opera di evangelizzazione anche se si ritirò da eremita in quello che fu chiamato un po' un egitto cioè una zona lontana una zona solitaria che viene identificata sulle colline del metauro dove ancora esiste un punto una grotta al santo dedicata ma vediamo quali sono le iniziative che oggi si svolgono a fano ovviamente ci sono tante celebrazioni religiose nella basilica che custodisce il corpo del santo ufficiata dai padri capuccini i francescani ebbene c'era una messa adesso inizia proprio una messa adesso alle 7 poi ne perseguirà un'altra alle 8 e 30 alle 11 sarà celebrata dal vescovo andrea andreozzi alle 18 e 30 invece la messa sarà celebrata da monsignor giovanni tonucci vescovo emerito di san loreto arcivescovo emerito di san loreto e a ventuno alle 21 seguirà un'altra celebrazione fatta da don giorgio giovanelli che il parroco della cattedrale e poi domenica prossima alle 18 e 30 una messa invece verrà celebrata nella grotta di san paterniano sulle prime colline sui primi contrafforti del metauro e poi alle 22 e 30 di questa sera tutti in piazza a partecipare alla tombola di san paterniano questa bella iniziativa che ormai si protrae senza soluzioni quasi senza soluzioni di continuità dal dopoguerra ad oggi ma è un'iniziativa che proviene anche da prima è un'iniziativa di beneficenza infatti si raccolgono soldi per finanziare la mensa dei poveri gestita sempre dall'associazione omonima del santo associazione san paterniano nella basilica nei locali del convento di san paterniano la basilica sarà aperta fino alle 23 e poi ci sarà anche una pesca di beneficenza una cartella costa 2 euro e 50 centesimi quindi è un prezzo molto molto popolare i premi non sono esagerati ma sono insomma interessanti e quindi dalla quaterna alla cinquina alla tombola ci sarà veramente un concorso di emozioni questa sera in piazza 20 settembre alla estrazione di ogni numero e poi la dichiarazione di coloro che hanno vinto ebbene detto questo passiamo alle previsioni del tempo tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutta la regione molto caldo di giorno con massime diffusamente superiori oltre 32 35 gradi la minima si è attestata a 22 gradi i venti sulle coste da nord nell'interno con una tensione debole da ovest sud ovest e il mare è leggermente mosso vediamo che il sole è sorto alle 5 e 34 e tramonterà alle 20 e 51 e allora apriamo i giornali questa mattina a partire dal corriere adriatico vediamo la pagina di fano ci informa su un incontro che si è svolto ieri tra il sindaco luca serfilippi e vigili e insiamo gli agenti della polizia locale bottiglie e bicchieri di vetro vietati nella città murata e in zona mare una delle iniziative che si appresta a prendere il sindaco firmando nei prossimi giorni una precisa ordinanza ebbene nell'incontro con gli agenti ieri si è parlato non solo di viabilità dato che il compito primario affidato alla polizia locale ma si è parlato anche di ordine pubblico ed è questo settore che il sindaco vuole così affidare un pochino di più rispetto al passato alla polizia locale polizia locale che può fare da supporto alle altre forze dell'ordine ebbene il sindaco ha dichiarato che nei prossimi giorni firmerò un'ordinanza contro l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro all'interno della città murata e anche in zona mare io stesso in pochi giorni ho segnalato la presenza di una decina di persone ubriache che con una bottiglia in mano potevano alterarsi e trasformarsi in soggetti pericolosi insomma questa volta si va un pochino più decisamente per controllare soprattutto persone che possono facilmente derogare e travalicare la linea di confine tra un sano divertimento e invece un atteggiamento deviante così possiamo definirlo e poi ancora un'attenzione di più a quello che accade ai quartieri e quindi prossimamente ci sarà anche un vigile saranno aumentati i controlli nei quartieri in modo particolare nelle zone periferiche attenzione per quanto riguarda l'estate al problema acustico ovvero ci sarà un maggiore equilibrio tra chi vuole riposare tranquillamente durante la notte chi invece vuole divertirsi con qualche emissione in più verso sembriamo che magari il sabato e la domenica certe cose sono permesse ma non sono permesse durante gli altri giorni della settimana dunque un incontro proficuo quello del sindaco che si è mantenuta la delega alla polizia locale la vuole gestire lui stesso perché sa quanto questo corpo può influire nel mantenimento dell'ordine pubblico e poi c'è anche un punto di riferimento che lo stesso può costituire durante l'estate per un'accoglienza migliore nei confronti dei turisti i quali possono affidarsi tranquillamente alle notizie alla cortesia dei vigili per ottenere un'accoglienza all'altezza della situazione vediamo le altre notizie a fondo pagina si parla di cine fortuna una iniziativa che riguarda le proiezioni cinematografiche un'iniziativa che in cinque edizioni ha elevato molto il suo livello di qualità si svolgerà dal 31 luglio al 3 agosto prossimo il punto focale ma già prossimamente prossimamente ci saranno delle proiezioni in modo particolare nelle concessioni balneari ma anche nelle bastione san gallo ebbene quest'anno cine fortuna sarà dedicato in modo particolare a due grandi attori del cinema marcello mastroianni e marlon brando di cui verranno proiettati i film restaurati divorzio all'italiana una giornata particolare di scuola per quanto riguarda mastroianni fronte del porto e ultimo tango a parigi per quanto riguarda invece marlon brando e poi tanti altri film ma non solo film ci saranno anche proiezioni di film di libri presentazioni di libri commedie musica insomma sarà una bella manifestazione che si prolungherà nella seconda parte del mese di luglio fino all'inizio del mese di agosto e poi dobbiamo purtroppo parlare di un lutto è morto è morto Luigi Marfori signore dello sport portò il volley femminile in serie a a venti giorni dal malore che lo ha colpito in piscina generoso fino all'ultimo donati gli organi ebbene una sintesi che fa così solleva tante emozioni dobbiamo dire per chi ha conosciuto questo personaggio un personaggio sempre gioviale aperto molto molto cortese molto amante della sua città vediamo l'incipit di questo articolo firmato da andrea maduzzi c'era un ragazzo che si era innamorato della pallavolo e che il ragazzo è rimasto fino all'ultimo sempre innamorato del volley ma anche della famiglia della professione della città e dello sport nella sua concezione più nobile veramente sono parole molto molto adatte per ritrarre il carattere di Luigi Marfori Gigi per gli amici ebbene Gigi ha avuto una grande risorsa quella della umanità con la quale è riuscito a formare un team di ragazze da che dallo sport amatoriale quello parrocchiale è riuscito a portarle ai massimi livelli dello sport nazionale fino ad aggiungere la serie a ma poi è stato sempre innamorato dello sport nello sport nella sua concezione più alta quello della generosità quello del rispetto dell'avversario e questi valori li ha coltivati in modo particolare quale presidente del club appunto il panathlon che si dedica a riunire riunisce un po tutti i rappresentanti dello sport fanese la fanesitudine una delle sue caratteristiche una persona speciale per quanto riguarda i valori tecnici e soprattutto morali che ha incarnato durante tutta la sua vita quindi come fanno tv io personalmente rinnoviamo veramente il nostro cordoglio per la scomparsa la famiglia per la di questo grande grande amico veniamo ora a un incidente stradale che si è verificato ieri sulla statale 16 in un punto molto molto nevralgico della viabilità fanese che è quello del ponte dell'anzilla ebbene quando si verifica un incidente su questo punto e si è costretti a chiudere la statale tutto il traffico in direzione verso Pesaro e da Pesaro verso Fano va in tilt immaginate non c'è una alternativa e questo è uno dei problemi che rilancia l'occasione di rifare un'altra strada per Pesaro e quindi ritorna un po la variante di Gimarra bloccato il ponte sul torrente Arzilla da una carambola tra tre automobili il incidente si è verificato ieri intorno alle 11 e 30 e quindi il traffico urbano è andato a rilento anche se per un momento si è bloccato la polizia locale ha chiuso la strada per motivi di sicurezza in quanto una delle auto coinvolte aveva così aveva emesso delle perdite di gas metano e quindi doveva essere messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco e allora vediamo un attimo che cosa ha messo portato alla ribalta questo nuovo incidente l'incidente ha subito riaperto il dibattito social sul punto più critico della viabilità affanese dice Osvaldo Scatassi ebbene l'episodio ha dunque creato un nuovo impulso a realizzare delle infrastrutture adeguate per offrire un'alternativa alla statale 16 che colleghi Pesaro fanno e viceversa ovvero il prolungamento degli interi quartieri fino alla statale adriatica in zona Gimarra e poi invece che dice no al progetto c'è ancora questo dibattito però insomma quando si verificano questi incidenti fanno soffre e soffrono poi anche tutte le altre attività giriamo la pagina giriamo la pagina andiamo a Fossombrone a Fossombrone si parla di donazioni di sangue ebbene Daniele Ragnetti e la moglie Vilma Cavanna Daniele Ragnetti è il presidente di Avis Marche insieme alla moglie e alla guida della storica sezione Avis di Fossombrone ebbene il Ragnetti ha posto l'accento sulla crisi che in questo momento incombe sulla donazione di sangue che è quella della carenza di personale nei centri trasfusionali e questo è il vero problema che limita questo apporto generoso di tanti volontari che donano il loro sangue che riesce poi a salvare la vita umana di tante tante persone così rischiamo l'implosione ha dichiarato Ragnetti. Torniamo un attimo a Fano per relazionare su un incontro che il vice sindaca con delega ai rapporti con le altre città Loretta Manocchi ha avuto con l'associazione Amici Senza Frontiere che è quella che continua a mantenere i rapporti con le città gemellate città gemellate che sono Rastat, Sant'Albans, Sant'Enlomont, Sant'Enlomont ormai è impallidita Velisca e Gandia, Gandia in Spagna la città partner con cui i tempi più recenti i rapporti sono stati più intensi quelli di Gandia. Comunque bisogna rinforzare questi rapporti e la società Amici Senza Frontiere è quella che lega le fila, tiene unite le fila con questi partner di Oltralpe insomma dove ci possono essere risvolti interessanti dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista turistico. A Terre Roversche si è tornato a parlare del biodigestore e si è assunta una decisione piuttosto drastica non c'è il cantiere e allora noi ti revochiamo l'autorizzazione edilizia. La notifica del Comune è stata fatta a Ferronia SRL, la società che dovrebbe realizzare questo nuovo impianto, i termini sono scaduti il 30 giugno, doveva essere installato un cantiere in realtà è stato installato soltanto un cartello con una recensione ma non c'è stato nulla che possa così configurare un cantiere, né uno sbancamento, né una trivellazione, né uno scavo, né un movimento terra né lavori edili di qualsiasi genere. Ecco perché il Comune ha revocato questa autorizzazione e adesso, punto interrogativo, cosa farà? La ditta farà ricorso oppure andrà a monte tutta la questione del biodigestore? Ebbene, lo leggeremo nella cronaca dei prossimi giorni. Ladri in casa del sarto dei papi di Filippo Sorcinelli, il celebre sarto di Mondolfo che a Sant'Arcangelo di Romagna ha un laboratorio dove confeziona gli abiti del Papa e lui appunto questi abiti bianchi con le cappe, senza cappe, eccetera, che dà appunto al Papa. Ebbene, in un momento d'assenza del proprietario di casa, i ladri sono entrati, hanno agito con tranquillità, probabilmente sapevano, avevano già osservato i movimenti del padrone di casa e quindi sapevano quanto sarebbe stato fuori casa e quindi hanno agito tranquillamente razziando tutto quello che hanno potuto. Sono spariti dei preziosi, degli oggetti preziosi. Vediamo anche la pagina di Senigallia dove non abbiamo la prima pagina oggi sull'edizione pesarese del Corriere, ma abbiamo la seconda che parla della Bolkestein e di una decisione di un concessionario di spiaggia di chiudere il suo stabilimento perché insomma la situazione non è affatto così favorevole ai bagnini e dedicarsi alla sua antica professione, quello di campione d'Italia di full contact, disciplina della kickboxing. E quindi lui si dedicherà da settembre in avanti a insegnare questo sport nella zona appunto di Senigallia. e quindi da settembre dice andrò a Castelleone di Suasa a Corinaldo per gestire questa palestra nuova. E' una decisione che insomma destra qualche preoccupazione per quanto riguarda i concessionari di spiaggia per cui questo problema rimane sempre insoluto. Marche, bollino rosso, caldo caldo canicola da 40 gradi, siamo lì vicini, ci aspettano dieci giorni di ancora di caldo, rovente e affa diffusa, ondata di calore, domani allerta tre in tutta la regione Marche. Attenzione dunque agli anziani di non uscire quando c'è molto molto caldo insomma nelle ore centrali della giornata. E ieri si è svolta anche la prima riunione del Consiglio regionale con le elezioni dei nuovi consiglieri subentrati a coloro che si sono dimessi. Si parla di Biancani, sindaco di Pesaro, si parla di Lucas Filippi, sindaco di Fano. Ebbene tutto questo ha creato un po' di maretta in alcune situazioni all'interno del Consiglio regionale. Per esempio il Corriere Adriatico mette in evidenza lo psicodramma che si è verificato all'interno del Partito Democratico a causa della rinuncia a svolgere il ruolo di capogruppo di Mangialardi che ha assunto invece il posto di vicepresidente del Consiglio al posto di Biancani. Chi lo rimpiazza? Ebbene insomma per il momento Anna Casini riempie ad interim questa casella però insomma ancora lo staff, non lo staff diciamo così il gruppo locale del PD deve decidere stabilmente chi sarà il suo capogruppo. Comunque Lucas Filippi e Andrea Biancani cedono il passo e il posto va a Giovanni Dall'Asta in precedenza della Lega che subito entra nel gruppo misto e Renato Claudio Minardi che è stato già consigliere e vicepresidente nella passata legislatura del Consiglio regionale. Insomma un augurio a Renato Claudio Minardi perché possa veramente valorizzare le istanze fanesi e renderle accettabili dall'intero Consiglio. Piazza non parcheggio, basta con il caos di auto davanti al Teatro Rossini nel Trebbio di Pesaro insorgono i commercianti ci sono camion senza permesso di tutte le dimensioni che insomma intasano la piazza una piazza che dovrebbe essere invece dedicata alle persone alla sosta, al passeggio e non al traffico dei veicoli motorizzati. Al Comune oltre 2 milioni di euro per costruire un nido da 90 posti sembra che sia questa la risposta alle proteste delle mamme che nei giorni scorsi hanno così manifestato nei confronti del Comune perché veramente per loro il servizio di esilo nido è importante sono mamme che lavorano, babbi che lavorano e quindi hanno bisogno di una struttura che possa prendersi cura del loro bambino molto molto piccolo. L'annuncio dell'assessore Pozzi in apertura del Consiglio Comunale è stato vinto per fortuna un bando ministeriale legato ai fondi del PNRR sono 2 milioni di euro con il quale si potrà costruire il nuovo asilo i lavori dovrebbero essere avviati entro l'anno e si devono concludere per regolarmento entro il 30 giugno del 2026. E poi vediamo un altro articolo sul Corriere Adriatico la spiaggia per cani riparte e abbaia, abbaia Flaminia, bello questo titolo e sì anche l'allestimento del food truck. Ed ora passiamo al resto del Carlino dove in apertura abbiamo un fatto veramente inquietante. È morta una signora che è caduta sulla nuova gradonata del waterfront di Torrette. Muore dopo la caduta, causa contro il Comune. La vittima è una 74enne deceduta due giorni dopo l'incidente. Si tratta di una signora donata a Maria Genovese 74 anni, residente a Fossombrone che dopo due giorni in coma è deceduta all'ospedale di Pesaro dove era stata trasportata d'urgenza e caduta e inciampata. La figlia l'ha trovata riversa con sangue sul viso e un forte dolore a una spalla. A soccorrerla tra i primi è stata una turista olandese che ha subito chiamato il 118 e poi insomma sono arrivati i soccorsi però insomma questa donna è deceduta. Insomma ora i pericoli di questa gradonata devono essere risolti e poi il Comune dovrà risponderne anche in sede giudiziale. L'articolo che riguarda la morte di Marfori donati gli organi si è spento 83 anni compiuti nel reparto di rianimazione dove era ricoverato dal 25 giugno dopo un malore nella piscina di un campi. Un grande uomo che amava lo sport e smisuratamente la sua famiglia. E ora non abbiamo più tempo per andare oltre ma qui ci fermiamo. Abbiamo dato una scorsa veramente a tutte le notizie che appaiono sui giornali di oggi e quindi possiamo veramente chiudere la nostra rassegna stampa. Vi do appuntamento alle 7. Grazie per l'ascolto. Le 7 di domani. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie per l'a incontro! Grazie per l'ascolto! Grazie per l'ascolto! Grazie a tutti!